Vorresti realizzare un allungamento così velocemente, vero? Con le Dual Tips e l'Acrygel Sferic ci vorrà veramente pochissimo tempo. Quindi dopo aver scelto la misura che si adatta meglio al tuo letto ungueale, vado a riempire la tip con lo Sferic Acrygel nella colorazione Milky White Glitter. Con il pennello Dual Tool vado a modellarlo. Lo applico sull'unghia e giro il dito per controllare se il prodotto è colato sotto il bordo libero. E vedete che ci sarà pochissimo da aggiustare perché lo Sferic Acrygel non cola. Polimo e rizzo per 60 secondi e poi vado a limare il bordo libero e a rifinire la struttura. Stendo un velo di top coat e questo è il risultato.